Qui a Di Maro per il ritiro 2014 del Napoli, siamo con il dottor Formisano a margine della conferenza stampa odierna. Dottore, la prima domanda che le faccio è a che punto sono i lavori per lo stadio? I lavori sono quelli tra gli uffici. Diciamo che c'è una reciproca volontà di concludere in tempi brevi, c'è fondamentalmente una comunione di intenti sugli aspetti strategici. Ora, ripeto, ci sono da mettere a posto le carte, insomma siamo ottimisti, ci auguriamo che avvenga i tempi molto rapidi. Quest'anno una novità sulle maglie del Napoli, non più lo sponsor MSC, ma un prodotto, un'eccellenza campana come pasta carofalo. Sì, appunto alla naturale scadenza del contratto con MSC abbiamo, avendo già un rapporto con pasta carofalo, da molti anni abbiamo colto l'opportunità reciprocamente, pasta carofalo è un marchio che a seguito di un'acquisizione è andata sul mercato, sui mercati internazionali con maggiore attenzione. Noi siamo un vettore per loro importante, quindi siamo lieti che un'eccellenza campana, come ha detto lei, ci possa accompagnare nelle nostre competizioni di questa stagione. Infine una domanda sulla nuova campagna abbonamenti, per l'ennesimo anno il Napoli mantiene congelati i prezzi, però da quest'anno ci sarà anche una piccola novità se ce ne vuole parlare brevemente. Sì, intanto la novità è mantenere i prezzi fermi perché comunque non è comune, non è abituale. Così come abbiamo mantenuto i prezzi fermi abbiamo confermato la possibilità di finanziare gli abbonamenti a tasso zero con prestitempo in 12 mesi, anche qui non è banale perché è chiaro che il Napoli fa un accordo nel quale al centro ci sono i tifosi e i propri consumatori. Abbiamo aggiunto agli strumenti che erano già in essere, cioè tessera del tifoso e voucher elettronico, la possibilità di caricare l'abbonamento anche sulla tessera Fanny Way, che è una tessera che ha caratteristiche molto simili alla tessera del tifoso, ma che ha la particolarità di essere acquistabile in tempo reale, cioè al momento in cui la si richiede in assenza di motivi ostativi da parte del Ministero degli Interni viene rilasciata immediatamente. E quindi in questo caso evidentemente abbiamo aggiunto un ulteriore strumento di facilitazione per i nostri tifosi. Il marketing è per definizione una capacità di interpretare il mercato e di sviluppare prodotti, azioni, servizi speculari rispetto alle esigenze del mercato. E quindi è un'attività necessaria oggi in tutte le aziende, in tutte le attività, anche in quelle che un tempo erano monopoliste o che lo sono ancora, tipo le poste, c'è evidentemente un'attenzione al mercato. Poi è chiaro che nel mio ruolo di direttore commerciale e marketing sono arrivato qua nel maggio del 2006, quando la squadra aveva appena terminato il campionato di C per essere promossa in Serie B ed è un'area che su un mandato del Presidente ho sviluppato interamente. Quindi è chiaro che la sento parte di me, ma siamo comunque ben lontani dal raggiungimento di un livello, di un obiettivo di soddisfazione perché sono tante le cose che vogliamo fare. Quindi assolutamente c'è ancora tanto lavoro da fare, quindi non ci crogiuliamo.